Ciao a tutti, oggi vorrei fare anche una video risposta per il mio amico che mi ha domandato le domande che sono prima di tutto come unire l'università e l'apprendimento delle lingue straniere e dopo lui volevo sapere se è interessante di imparare lo spagnolo per un italiano, una persona che parla come madrelingua l'italiano e dopo se è interessante di leggere i testi di wikipedia per imparare le lingue straniere e dopo se l'ascolto è importante o no. Prima di tutto come faccio per unire entrambe le cose, studiare per l'università e studiare le lingue straniere? Come ho sempre detto non studio a casa, non studio nella università, io studio sempre nella metropolitana, quello che ho fatto per l'italiano, quello che sto facendo per l'indo cinese e anche per il giapponese. Il giapponese è piuttosto difficile, devo sempre ogni giorno studiarlo per non dimenticare le parole, le cose, le frasi e allora quello che faccio è sempre quando sto nella metropolitana io ascolto, prendo il testo e quando sto ascoltando sto anche guardando le cose che sto ascoltando. Allora se la persona dice per esempio ogni mattina io vado a scuola, sul libro è scritto ogni mattino vado nella scuola, così io posso vedere come si scrive le cose e anche come si pronuncia le cose. ho sempre il MP4 per ascoltare e vorrei rispondere alla alla pregunta che è se l'ascolto è importante o no. penso che l'ascolto è importantissimo perché noi impariamo le lingue straniere con l'ascolto, non impariamo leggendo o parlando, ascoltiamo. noi dobbiamo ascoltare per avere i bassi e dopo di avere i bassi possiamo fare le frasi molto semplici e dopo sviluppare la sua conoscenza della lingua, certamente. bene, lui mi ha domandato se io sono un genio, vorrei dire che non sono un genio, io faccio questo ogni giorno, è normale che è più veloce quando fai le cose ogni giorno, io non studio per esempio non studio il lunedì e dopo non studio martedì, mercoledì, giovedì e studio di nuovo il venerdì, non faccio questo, studio lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ogni giorno, ogni giorno studio almeno, almeno 20 minuti e questo penso che è soddisfacente, non si deve studiare più troppo perché è noioso dopo di studiare 4 ore, non è possibile, devi fare questo di una maniera così naturale, imparare poco a poco, un po' ogni giorno e questo è molto importante, fare le cose ogni giorno, se non fai le cose ogni giorno, dimentichi tutto. e anche, bene, la seconda domanda era se lo spagnolo è interessante per qualcuno che parla l'italiano, io penso che è molto interessante perché è veloce, tu puoi imparare molto velocemente lo spagnolo perché è così similare, si assomiglia con l'italiano, allora io ho studiato l'italiano per 4 mesi, non ho un livello molto buono, ma va bene per parlare e per me era il più importante di sapere comunicare con gli italiani e adesso basta leggere più di cose per sviluppare la mia conoscenza della grammatica dell'italiano, ma dovrei dire che studio la grammatica nei testi, non studio mai la grammatica con un libro di grammatica perché questo è noioso, è noiosissimo e quello che faccio è davvero semplice, io prendo un libro, un testo dove ci sono le parole, le frasi e c'è un contesto per imparare tutto e tu capisci tutto, tu capisci come utilizzare le parole, come fare le frasi e va bene, ma se studi in un libro di grammatica non capisci niente, tu capisci qualcosa ma non sai come utilizzare nella vita reale, nella vita quando devi utilizzare questo, io sono sicuro che non pensi mai alla grammatica dell'italiano quando parli l'italiano con i tuoi genitori o i tuoi amici e dopo allora è molto interessante conoscere lo spagnolo per comunicare con molte persone, ci sono tante persone che parlano questa lingua e dopo allora è molto interessante e anche se vorrei viaggiare in America del Sud è molto interessante di fare dei amici di Perù, di non so, molte paese e dopo per Wikipedia penso che è più utile di leggere Wikipedia dopo di avere le basse quando sai come parlare, quando sai come dire le cose di basse e che vorresti sviluppare il vocabolario e anche le strutture, come fare le frasi, va bene, puoi leggere questo, se ti piace puoi leggere questo ma è meglio leggere con un libro perché in un libro tu puoi prendere questo dappertutto, tu puoi andare a scuola con il libro tu puoi utilizzare il libro quando vuoi, per questo mi piace di più imparare senza il computer e dopo l'ultima domanda è per l'ascolto io penso che l'ascolto è davvero, davvero importante per l'accento e anche per memorizzare le cose quando cominci ad imparare una lingua devi sempre ascoltare prima di leggere o di scrivere quando stavo imparare l'italiano non ho mai scritto l'italiano ho sempre letto o sempre ascoltato ascoltato magari dieci volte la stessa cosa per sapere come si pronuncia le cose penso che è meglio così, che non è buono di leggere senza sapere come leggere ma quando ascolti sai come si legge questa parola o questa parola eppure puoi fare le frasi penso quando ascolti tutto, stai assorbando le cose nella tua testa e diventa molto naturale imparare ascoltando tu puoi fare questo con il portoghese, ci sono molte cose sull'internet che puoi scaricare soprattutto sopra usi, translations, tu puoi trovare molte cose, tutto è gratuito e tu puoi scaricare tutto per imparare ogni lingua che vorresti imparare spero che impari molto velocemente il portoghese e ci vediamo prestissimo, arrivederci